ariete se frequenti qualcuno da poco oggi scoccherà forse la scintilla definitiva al lavoro oggi potrebbe arrivare la conferma professionale che attendi da tempo toro ogni cosa sarà motivo di lunghe riflessioni per fortuna qualcuno in serata riuscirà ad alleggerirti l'anima e la testa gemelli positivo e produttivo come non mai nessun imprevisto oggi potrà toglierti il sorriso o piegare la tua determinazione cancro al lavoro qualcuno vorrebbe tirarti un colpo basso preparati a rispondere in fondo è tutta invidia leone forse arriverà una notizia che ti spiazzerà e ti renderà felice ma ti lascerà anche qualche dubbio di gestione e fattibilità giornata splendida vergine al lavoro è un periodo intenso e pieno di opportunità da cogliere e tu ne sei completamente assorbito devi cercare di mantenere gli equilibri di coppia bilancia perderai la pazienza con chi non ha colto il valore del tuo lavoro e sarà facile sbattere qualche porta oggi sei pronto alle conseguenze scorpione alcuni comportamenti non sono stati proprio limpidi oggi dovrai risolvere alcune questioni in famiglia con il partner o con un caro amico sagittario oggi avrai bisogno di amici e così sarà tutto un chiamare messaggiare organizzare pianificare una bella serata in compagnia capricorno oggi avrai tempo per dare a tutto la giusta priorità ma anche per riflettere ponderare e fare scelte che rimandi da un po giove ti aiuterà a fare ordine acquario sei innamorato o ti sta innamorando in entrambi i casi oggi scoprirai emozioni che non pensavi di poter provare ancora pesci oggi potresti essere gentile con uno sconosciuto e poi ritrovartelo seduto in sala riunioni per un progetto davvero importante per il tuo lavoro